Sgomberata e recintata la vela celeste di Scampia, dove procedono i lavori di abbattimento delle passerelle e dei ballatoi dopo il tragico cedimento dello scorso 22 luglio, circa 800 persone hanno dovuto abbandonare l'edificio. La strada maestra della gestione di questa emergenza è il contributo di autonoma sistemazione che è stato uno sforzo molto consistente da parte dell'amministrazione e poi grazie all'intervento del sindaco con il governo ha realizzato appunto un finanziamento governativo che consentirà alle famiglie che in questo momento sopportano una condizione di grande stress naturalmente di avere un ristoro economico che consente loro di diciamo traguardare questo periodo difficile. C'è un aspetto molto importante al di là del fatto che noi stiamo seguendo ogni giorno tutte le famiglie delle vele, ne veniamo poi da circa tre anni di lavoro di territorio attraverso l'interazione con il comitato vele, con tutti gli abitanti, con la municipalità, quindi posso dire che abbiamo una relazione molto stretta e diretta con questa comunità e siamo molto avveduti dei problemi che le persone incontrano in questo momento dal punto di vista della loro sistemazione. Il progetto di rigenerazione urbana Restart Scampia prevede fra gli altri obiettivi la costruzione di nuovi alloggi nell'area delle vele. In questa situazione di grandissimo stress e di grande sofferenza sociale c'è tuttavia una prospettiva importante che è la realizzazione di alloggi nuovi, di un quartiere completamente rinnovato e quindi come dire noi ci stiamo impegnando al massimo perché questa prospettiva venga realizzata nei tempi previsti dal PNRR. L'attività di cantiere che era partita già da prima del 22 luglio è in corso, c'è un'area sequestrata nella vela celeste ma a parte quella tutte le attività si stanno svolgendo regolarmente. È in programma in questo primo blocco di costruzioni la realizzazione di circa 160 alloggi. Cominciamo da settembre, partirà prima un primo edificio, il più piccolo, da 18 alloggi e man mano che vengono completate le validazioni dei progetti esecutivi degli altri quattro edifici naturalmente li potremo cantierare. Quindi tutta l'attività prevista dal piano Restart Scampia, quello che è prevalentemente finanziato dal PNRR ma non solo, è proseguita regolarmente sempre, abbiamo continuato a lavorare sempre e naturalmente quindi stiamo procedendo in questa direzione. Il cantiere parte nelle aree che voi vedete che sono le aree libere dalle costruzioni. I primi edifici, la parte d'innesco del progetto, vengono edificati appunto su aree libere dalle costruzioni. Come è noto, il programma prevede poi la demolizione di due delle tre vele che sono attualmente in piedi, la vela gialla e la vela rossa, e sulle aree di sedime delle due vele demolite naturalmente sorgeranno gli altri edifici per completare l'intero comparto. Ricordo che questo è un quartiere che avrà 433 nuovi alloggi, avrà una scuola, avrà una piastra commerciale, servizi di prossimità e una estesa area comune, verde naturalmente, che è composta sia di un parco urbano che di orti urbani.